Prima il via libera del Comitato Tecnico Scientifico, l'apertura dei ristoranti anche la sera, purché in zona gialla, poi la prudenza che prende il sopravvento e il timore di ridurre l'efficacia delle misure anticontagio che portano al passaggio obbligato del testimone, nonché della decisione, al governo. Inutile dire che le prime a sperare sono le categorie, da mesi impegnate in una battaglia che si è divisa tra proteste pacifiche ma obbedienti e proteste a suon di serrande sempre aperte nonostante le restrizioni imposte dai DPCM. Beh, è una fantastica prima vittoria per ritornare alla normalità, finalmente si è capito che non è il ristorante il luogo dove si creano le possibilità di contagio maggiori, ma rispettando le regole si può benissimo venire a cena fino alle 22 per ora, quindi non vediamo l'ora. Sulle prime il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera per l'apertura a pranzo in zona arancione anche a cena in zona gialla, ma con l'obbligo per i clienti di indossare le mascherine ogni qualvolta si trovano in piedi e non seduti al tavolo per consumare le pietanze. Ma vista la situazione contagio in risalita in tutta Italia, in una nota arriva la frenata che pare smorzare la speranza delle categorie. La mia linea è sempre la solita di rimanere aperte proprio perché sono sicuro che stiamo facendo la cosa giusta e proprio per continuare a mandare avanti le attività e i miei dipendenti. Allo stesso tempo, una volta che questa battaglia che abbiamo fatto in primis con IoApro e con altre, ovviamente tutte le altre forze che si sono unite per portare avanti questa cosa, questa battaglia avanti, in caso aprissimo realmente tutti, sarà una grandissima vittoria per tutti. A decidere sarà il governo che tuttavia ancora di fatto non c'è. L'ultimo DPCM scade il 5 di marzo, ma già il 15 febbraio cade il divieto di spostamento tra le regioni e si riaprono gli impianti sciistici. Quindi, in attesa del percorso del presidente incaricato Mario Draghi, occorre stabilire se queste decisioni possano rientrare tra gli affari correnti ed essere gestite dal governo in carica per l'ordinaria amministrazione oppure se ne riparlerà dopo l'insediamento del nuovo governo. Oggi abbiamo pubblicato un'indagine tra i nostri associati di diverse regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. A pranzo copriamo il 15-20% del fatturato del 2019. Bisogna riaprire a cena, si deve riaprire a cena. A pranzo non si fa nulla, è evidente, è sotto gli occhi anche dei clienti che dicono ma vi conviene stare aperti a pranzo?